Buon pomeriggio da Radio Project Mundial, è Luciano Marcuccilli che vi parla. Si è svolto ieri sera presso il Paperon Club di Afragola la seconda gara della prima giornata del torneo femminile Talent Futsal, organizzato dai comitati Futsal Fix Lazio e Campania, dall'Afragirl, dal Project Mundial e dalla Project Mundial Futsal Academy. Sono scese in campo le squadre Black Angel e Dinamo Sorrento. Partita equilibrata, corretta e ben giocata dalle due squadre, vinta dalle ragazze sorrentine con il punteggio di 3-2. Le ragazze scese in campo sono per il Black Angel, Aurora Pezzella, Antonietta Fusco, Celiento Maria, Di Maso Maria Pia, Luisa Scevola, Di Micco Maria, Francesca Abbanante, Per la Dinamo Sorrento, Caffiero Serena, Pastore Elena, Stajano Daniela, Castellano Viviana, Coppola Rita, Veniero Giorgia, L'Angellotto Chiara, Mastellone Tina, De Gregorio Valentina, Desposito Flavia, Botta Giulia, Iaccarino Flaminia, Sharon. Le reti sono state di Castellano Daniela, Veniero Giorgia, L'Angellotto Chiara, Appanante Francesca Di Maso Maria Pia. Si conclude la prima giornata del Talent Futsal con l'incontro di questa sera tra la Futsal Coine, guidata dal duo Viglione Michele e Anna Piccirillo, e l'SD Roberto Grimaldi della Presidente Michela Forrino. Le giocatrici tesserate dalle due società per il torneo sono S.D. Roberto Grimaldi Sabrina Iannone, Benedetta Romano, Daphne Romano, Ilenia Mauro, Morena Romano, Anna Rosa Sabarese, Giussi Carlo Magno, Emanuela Rossini, Maria Virginia De Luca, Chiara Cito, Veronica Ragozzino, Antonella Pastore, Maria Mari Rago, Nel comunicato di domani ci saranno i commenti della gara, i risultati della classifica della prima giornata e il calendario della seconda giornata. Vi ricordo che le gare del Talent Futsal verranno trasmesse in differita sul canale web tv Project Mundial Channel e vi comunicherò nei prossimi comunicati le date e gli orari. Vi ricordo che anche questa sera c'è in onda sul canale la differita dell'incontro tra Afrakerle e Cosenza. Vi comunico che per dare più risalto alle varie rubriche i nostri brevi interventi radio saranno divisi. La rubrica su Futsal Femminile si farà tutti venerdì ore 19. Con questa comunicazione vi chiudo all'intervento e vi auguro un buon pomeriggio ed una buona serata da Radio Project Mundial Marco Cilli Luciano.